Il Comandante della Regione Carabiniera di Sicilia, Generale Cataldo, visita il Comando Provinciale. Il Generale di Divisione, Giovanni Cataldo, Comandante della Regione Carabiniera di Sicilia, nel pomeriggio di ieri ha visitato il Comando Provinciale Carabiniera di Siracusa per portare i propri auguri in vista delle prossime festività natalizie a tutti i militari della provincia. A ricevere l'alto ufficiale, il Comandante Provinciale, Colonello Giovanni Tamborrino, gli ufficiali, i Comandanti di Stazione, una rappresentanza dei militari della provincia, il Delegato Cobar, la rappresentanza militare e i Carabinieri in concedo dell'ANC. Il Generale Cataldo ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso sul territorio durante l'anno e ha esortato tutti a proseguire in modo, se possibile, ancora più incisivo nelle operazioni di controllo del territorio, confermando il suo sostegno e la sua avvicinanza a tutti i militari impegnati nel quotidiano servizio istituzionale. Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto ai rappresentanti dell'Arma in congedo che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione del prestigio dell'istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato. Al termine dell'incontro il Generale Cataldo si è intrattenuto con i suoi Carabinieri in un brindisi augurale.